Barbara D'Urso è pronta a tornare a TV, e stavolta sembrano non esserci dubbi. A dare l'indiscrezione bomba è, sulle colonne del sempre informatissimo D'Agospia, Giuseppe Candela. Barbara è lontana dagli schermi ormai da molto tempo, l'anno scorso non si è vista neppure per un'ospitata. Chiusa la parentesi Mediaset, su di lei era sceso il silenzio. Si erano rincorse voci, chiacchiere, pensieri. Nei mesi scorsi era arrivata anche l'indiscrezione di un programma su Discovery. E invece non se n'era fatto niente. Diversamente da questa volta in cui sembrano esserci tutte le carte in regola. Per il suo ritorno in TV Barbara D'Urso ha scelto la Rai, e non un programma qualsiasi, uno che va in onda il sabato sera in Prime Time. Si tratta di Ballando con le stelle. Scrive Giuseppe Candela, tweet flash l'esclusiva di Giuseppe Candela. Barbara D'Urso ballerina per una notte a Ballando con le stelle. Molto probabilmente della seconda puntata. E il pubblico è impazzito. Millie Carlucci sembra essere riuscita a coronare uno dei suoi sogni per un'edizione di Primordine. I concorrenti sono stati svelati a poco a poco e a dire sia Millie Carlucci e immergersi in questa avventura. Il pubblico troverà la conduttrice Bianca Guaccero, l'attore Francesco Paolo Antoni, l'ex velina di striscia la notizia Federica Nargi. E ancora il giornalista Alan Friedman, la regina del nuoto, Federica Pellegrini e la cantante Nilla Zilli. Ci sarà anche Massimiliano Ossini, che sappiamo già lavorerà con la maestra Vera Chinunen. E nuove coppie potrebbero nascere. Fra un waltzer e una baccata, però, sarebbero nati anche alcuni amori. A notarli è stato Angelo Madonia che sui social ha scritto Già vedo due barra tre coppie con tanto di emoji del fuoco. Chi sono? Novella 200 prova a fare delle ipotesi. Si legge sul sito. I due papabili VIP che potrebbero essersi innamorati del proprio partner danzerino potrebbero quindi essere lo schermitore Tommaso Marino e la conduttrice Bianca Guaccero. I due fanno coppia con Sofia Berto e Giovanni Pernice.